Ciao Claudia, come va? Bene. Come la stai vivendo questo momento così tragico di quarantena? Bene, tranquillissima, non capisco le persone che stanno impassendo in casa, io sono qua proprio tranquillissima, faccio tutte le mie cosine i ferri, tutto il ferro venino. Sei sicura che vado tutto bene? Non hai bisogno di qualche assistenza psicologica? No, 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 lo so. Lo sai che ci sono dei servizi bellissimi in questo momento che aiutano la gente, che è un po' tesa, ecco, diciamo. Bisogno, va bene, ma io sono qua tranquillissima, mi faccio tutte le mie cosine i ferri, tutto per venino, proprio non ho nessun problema, tranquilla eh? Sì, non ti manca un po' l'aria aperta, un po' un po' diciamo così, un po' di sole, e un po' di sole, un po' di sole. Ma no, al sole vengono le rughe, il sole fa venire le rughe? No, 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 poi noi persone anziane, basta, noi c'è già delle nonne, beh, non lo so, eh, da 54 anni cominciano già a farci sentire, non posso mica fare più, no, 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 stiamo qua in casa, per venino, no, no, poi cosa mettere in cose, in costume, no, 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 al sole. Io sto qua, mi faccio tutte le mie cosine i ferri, i miei centrini, dopo tutti i centrini all'uncinetto, tutti i sottovasi, tutto per venino, guarda che bellina, mi sto facendo tutta la mia, la mia copertina, tutta così da mettere qua, tutto sulle gambe, perché sei a una certa età, è un po' freschino, guarda la tv di sera, tutte, cioè, sei lì che guardi Conte, viene freddo, in tanti guardi, tutti i decreti, no, no. Va bene, dai, ti ringrazio tanto di questa tua testimonianza. Ciao. Allora Claudia, sei sicura che vada tutto bene, sei tranquilla, serena, io posso andare di là a fare le mie cose, sicura? Guarda, io sono qua, mi faccio tutte le mie cosine, vai pure, se devi fare qualcosa, tranquillo, eh, vuoi, non so, vuoi, non so, vuoi sperare, vuoi, non so, fai quello che ti pare, io qua tranquilla, guarda, proprio dove ti vado, come ti faccio, qua tranquillissime? Ok, dai, va bene, ok, allora io vado a fare le mie cose, ciao ciao. Ciao, vai pure. Ciao, vai pure. Ciao, vai pure. Ciao, vai pure. Grazie. 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 Grazie.